Questo percorso è stato bellissimo, perché innanzitutto è bello che molti credono in noi e hanno puntato su di noi e non tutti i partiti l'hanno fatto e mai forse lo faranno. Questo partito invece crede in noi e sta puntando su di noi. Questi corsi di formazione politica sono stati molto importanti perché ci hanno permesso di avere dei contributi significativi da parte di persone che ci hanno spiegato i campi su cui noi dovremmo anche operare, sulla comunicazione e sulla politica. Ci hanno dato una maggiore competenza, mentre prima possibilmente avevamo soltanto dei concetti astratti sugli essi. Dalla parte invece di noi giovani è stato importante perché siamo riusciti a conoscerci, a capire quali sono le difficoltà nei propri territori, ad avere un confronto continuo e quotidiano e questo secondo me è stata la grande vittoria, il permetterci di stare tra di noi ma anche con noi grandi che sono scesi e ci hanno dimostrato un livello di parità con loro.